no ce l'ho fatta che c'è un cazzo di il treppiede è un treppiede di merda un po deboluccio tutto tanto tutto tutto flessibile che devo fare con quello che ho perché sono uno youtuber professionista vediamo se riesco un po ok ci siamo ci siamo mettiamo su un altro pezzo già che ci siamo adesso mettiamo un bel gruppo su un gruppo della costa rica i profanum dal demo morbid faith ce la faccio a ritornare nella pagina con la diretta sì sì ok dicevo questi sono un gruppo costaricano no costaricano si dice va bene se va bene assessora di ocana va bene anche costaricano mi ammetto anche il mi piace al mio stesso posto allora torniamo un attimo a noi altri vediamo se riesco a centrarlo un po di più costaricense no preferisco costaricano dicevamo vabbè dai sempre non mi fa dire una frase che poi dopo mi censurano e dicevo è scattona è uscito finalmente il nuovo disco di sto gruppo della madonna che in realtà erano 7 pollici uscito nel 2011 non ho ancora capito bene perché qua c'è scritto la registrazione del 2011 io mi sa che l'ho preso verso non tante settimane fa quindi leggo che da qualche parte è uscito nel 2017 per cui dico che da qualche altra parte è scritto 2018 ma che cazzo vabbè comunque l'etichetta esce però l'etichetta cicoslavaca che se non mi ricordo male ha fatto uscire tutte anche le altre anche gli altri dischi poi qualcuno mi correga se si dico una cazzata comunque esce anche questo per lavadom e questo diciamo un singolo che era uscito tra tra il secondo disco è quello che deve uscire che è uscito da 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 poco dei 7 pollici 10 alle 7 pollici si ma l'ho comprato da l'ho comprato non come distro l'ho preso così a cazzo o no sai che forse riesco avere una copia in più devo sentire nuclear winter perché sta roba qua l'ho presa direttamente da lui si mi informo e questo è un gruppo della madonna questa è una cosa cioè al di là del singolo il nuovo disco che ho anche sentito è una cosa pazzesca va preso assolutamente si chiama omegalitz e death metal non ci sono altri termini per per spiegarlo poi si sa che quando sti gruppi australiani partono e fanno la loro roba la fanno la fanno la fanno il compitino lo fanno sempre bene non sono sempre contento quando fanno trash metal poi hanno secondo me hanno degli atti bassi ma quando sono death metal qualsiasi tipo sia anche la roba putri da marcia la impiettaico poi con cutabara ha dimostrato che lo sanno suonare anche quella quindi poi non parliamo di uominator e altri gruppi così quindi quando uno anche come si chiamavano i nivumus erano australiani si comunque sempre roba roba eccelsa bello 7 pollici semplice poi in realtà il layout ultimamente li fa tutti direttamente il tipo della della martir doom esatto ha semplificato molto il layout però alla fine va bene così c'è un cazzo solito logo dietro vediamo se un po centrale basta c'è muto c'è la c'è ci sono i testi che poi la verità online non si trovavano fortunatamente sul sito pollici ci sono roba un po intricata è un po un po isergica ma è una roba interessante anche da leggere riusciamo a metterlo via senza scopolarlo mettiamolo via questo è da prendere il discorso allora volevo fare una cosa un po particolare vediamo se riesco ma credo ok cioè questo qua adesso è un link che metterò quello che state sentendo in background dimentichetti siamo a great day in records che io poi non conoscevo e questo gruppo qua seppulcarale è un gruppo vecchiotto che però ancora una crosta della madonna un gruppo francese e questa è una roba che secondo me che andrebbe andrebbe pescata se si riesce di trovare da qualche parte sono sono interessanti ovviamente non riesco c'è dopo che mi metto qui e faccio e punto il il monitor ma la cosa che mi sembra tristissima questo comunque è il gruppo giusto per dire che ogni tanto anch'io posto promo digitali si non in realtà mi è arrivato in un altro formato non come lì in canna pagina youtube però roba buona il gruppo francese storico la chicca teniamo in background allora esco un attimo il discorso musicale così vogliamo introdurre anche nella rubrica due tre cose che sono un po fuori ma no è che c'è la superficie che è piccola di can guarda come cazzo è c'è una scrivania di 3 cm insieme a quella di un ragazzino delle superiore e no volevo parlare qua bisogna trovare un modo adesso io mi faccio una qualche struttura per avere la telecamera in mezzo alle gambe perché altrimenti non riesco a mettere niente e anche perché poi ho voluto fare il video in orizzontale perché quell'altro insomma una volta che lo carichi fa abbastanza schifo cazzo questa qua a row county è una storia horror di streghe e di e di fantasmi scritta da tale coolen coolen bun che è uno che attivamente sta lavorando su su deadpool che è un fumetto del cazzo però è uno provo a tornare la tiro un po su lo tengo con la mano poi vediamo speriamo che sia abbastanza fissa poi vabbè vedrò di fare un setup un po più decente è una è una diciamo è una una serie di fumetti che è uscita auto in realtà autoconclusiva perché stanno per uscire le ultime puntate e gli ultimi episodi questi in questi giorni questo è il primo paperback che raccoglie le prime quattro i primi quattro numeri ed era le operazioni stati uniti un paio di anni fa ne sono usciti cinque o sei mi sembra fino adesso e in più hanno fatto anche la noi la vicino tanto si capisce che cazzo è e dicevo torniamo un passo indietro questo callen bun è uno che adesso sta lavorando per deadpool ma è uno che ha lavorato per la marvel e per la dc per per tanti anni poi alla fine gli hanno dato questi della dark horse che la diciamo terza il terzo contender del mercato rispetto alle due major del fumetto del fumetto americano e gli hanno dato possibilità di fare questa arrow county all'inizio questa arrow county si chiamava countless hands ed era un romanzo che era uscito ad episodi doveva uscire ad episodi come romanzo illustrato e basta poi in realtà quando ha avuto la possibilità di lavorare anche con con un illustratore hanno fatto un fumetto vero e proprio e esce in italia per l'etichetta renouard per l'etichetta per la casa editrice renouard ed è interessante perché ha uno stile decisamente cupo e analogico diciamo togliamo sta merda sottofondo che è dicevo quella cosa interessante che è stato tutto disegnato a o meglio è stato tutto colorato ad acquerelli e c'era proprio un'intervista che leggevo tempo fa del del disegnatore che diceva che insomma se sbagliava a fare qualcosa era fottuto un po come si era succedeva negli anni negli anni 90 però l'acquarello da a tutto questo a questo momento un tono che secondo me è particolarmente spettrale e si adatta bene a questo tipo di racconto dicevo in questa comunità rurale degli stati uniti dove c'è questa ragazzina che sta per diventare sta per compiere di 18 anni e gli vengono praticamente capisce di avere il sangue di strega comunque di avere un qualche sorta di potere paranormale la storia non è originalissima ma è sviluppata molto bene questo è un oggettino interessante io l'ho iniziato a prendere l'inglese me lo sono continuato a prendere l'inglese però dicevo c'è anche l'edizione italiana ed è curata molto bene il prezzo dell'edizione italiana è lo stesso dell'edizione inglese c'è circa 12 13 euro a volumetto e alla fine c'è il transcript o meglio c'è il il romanzo originale questo countless saints da cui poi è stato tratto il il fumetto vero e proprio poi c'è un un interessante portfoglio che raccoglie un po l'illustrazioni di studi grafici sono stati fatti per il il fumetto quasi vede potuto avere il coloring fatto da acquarello queste cose poi il giorno d'oggi non sono poi così scontate ecco anche se ci sono dei tool digitali che secondo me si fa veramente fatica a capire la differenza comunque interessante e consigliato a livello di fumetti poi e sul fumetto non mi non mi sbilancerò più di tanto allora parlo di libri un paio di libri poi dopo c'è una fanzina poi grosso modo farò il la conclusione allora come libri parlo di due cult assoluti ed immancabili di tutti coloro sono appassionati di cinema in particolare di cinema splatter in italia e fanno parte diciamo della collezione secondo me immancabile che è appassionato appunto di questo genere i due libri sono la guida il cinema splatter e il cinema splatter e l'horror di fine millennio dei fratelli castoli che sono due tizi di firenze che erano due appassionati di cinema negli anni 80 90 e hanno fatto una raccolta spaventosa di un lavoro incredibile di ricerca per fare tutta una serie di schede si vede diciamo di schede di questo tipo dove praticamente swish erano tutti questi fanno delle schede di bisogna considerare che questi erano gli anni il primo disco del primo disco il primo il primo libro del 93 secondo del 97 bisogna considerare quelli anni 90 non c'era internet e quindi per avere un po di notizie su della roba underground non c'era purtroppo il né social né cose di questo tipo e quindi ci si rifaceva o alle fanzine ai libri che arrivano un po col contagocce o a queste cose che poi in realtà ti cambiavano la percezione poi di quanto uno aveva visto perché quando mi è capitato la prima volta di aver mezzo mano di me la prima volta che mi capita di mettere mano su questo libro qua mi è venuto male perché ne avevo visti un quinto di questi film qua e poi dopo in realtà nel tempo sono riuscito a recuperare poi negli anni 90 era un po più appassionato di cinema di quanto non lo sono adesso adesso l'ho fatto passare un po in secondo piano erano uscite su due etichette di ocane due case editrici diverse invece sono stati ristampati di recente dalla profondo rosso ed espansi in una collana di tre libri che come tutti i libri da profondo rosso costano 25 euro l'uno quindi sono 75 sacchi che partono se uno si vuol fare l'enciclopedia fra splatter dei castoldi mi sembra che la versione di profondo rosso è uscito nel 2003 il primo se non mi ricordo male questo qua arriva fino al 90 all 89 mi sembra che si arriva fino all 89 e quest'altro qua arriva fino non lo ricordo si arriva fino al 97 sono out of print ma si trovano su ebay a prezzi secondo me ridicoli oppure se volete spendere 75 euro vi potete prendere la versione la versione profondo rosso qua qua il posto è cioè qua è oggettivamente meraviglioso si parte ovviamente da Hershel Gordon Lewis da 1000 Maniacs e così via in poi sul cinema splatter nel corso dei decenni le schede sono divise come avete capito per anno e non c'è molto da dire è un questa roba roba di culto che si 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 promuove da sola cioè va presa perché esiste fino al discorso sempre sul libro vado sul classico questa volta ovviamente un classico inteso proprio come classico della della letteratura che è il frankenstein di shelley di marie shelley famosa moglie del meno famoso per qualche motivo marito questa è una versione sicuramente interessante perché è uscita nel 2010 per la planeta ed era ovviamente uscito per dark horse anche questo è della versione illustrata da bernie brightson con una prefazione di stephen king e una confezione di pregio perché diciamo una sorta di tessuto che unire legatore in tessuto bellissima con caratteri in argento e soprattutto l'illustrazione di Vrightson che è stato il più grande illustratore di tratteggio diciamo questa tecnica di tratteggio particolare di tutti i tempi poi riconosciuto credo a tutti i livelli come un genio assoluto King nell'introduzione dice anche effettivamente di aver conosciuto Vrightson questa è la scena iniziale della barca che è una cosa se riesco a far vedere un qualche dettaglio ci provo ci vede si dai si vede abbastanza genio assoluto dicevo King aveva conosciuto Vrightson sul set di Creepshow perché poi negli anni 80 uscì una versione di Creepshow in fumetto e chi non ha visto Creepshow non merita di respirare l'aria di questo mondo libri di restrizioni meravigliose che ovviamente ho guardato solo quelle perché lì non so leggere quindi almeno guardo le figure niente poco da dire insomma piccolo gioiellino non costava neanche una un'esagerazione non so cosa possa valere adesso però sappiate c'è che esiste anche questa edizione qua esistrata da Vrightson ed è stupenda della Frankenstein di Mary questo concludo con una roba vecchia poi vedo se riesco intanto a mettere su l'ennesimo link a qualche potredume ah sì questi sono peruviani interessante interessante il gruppo è spasm e ha fatto un pochino di roba non so se sono ancora attivi o si sono sciolti pochi anni fa ma sono attivati in un casino era un gruppo death crime peruviano adesso metto il link in descrizione e secondo me vale la pena dargli un ascoltato trovo veramente grandissima ma non si può pretendere altro parlo di fanzine ogni 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 diciamo puntata metterò una fanzine presa a caso dal mucchio questa è una fanzine parto da una fanzine che secondo me hanno visto in pochi che è una fanzine panamense uscita nel 92 si chiama bloody mortal ghouls il primo numero era non era in inglese e quindi diciamo questo è il primo numero primo numero leggibile l'inglese ovviamente maccaronico e dei peggiori ma la cosa interessante insomma che uno può si può riguardare anche qua c'è il flyer dei master summer di clive stupi per vista necromazie col vecchio col vecchio logo flyer dei bestiae summoning per vista cathedra beyond down questi qua ecco questi qua ho provato a guardare in lungo e in largo in realtà non sono mai riuscito a trovare un cazzo si chiamavano tre factum erano un gruppo colombiano questi qua o che hanno cambiato nome o non c'è nulla che arrivano di stazione non sono riuscito a trovare niente quale parla parlava almeno di qualcosa che era stato che era uscito come demo in realtà poi non ne ho mai sentiti lubricant contagion malediction poi se qualcuno vuole scrivere ad a gliv nagel qua c'è il una recensione diciamo demolitrice di darton ma quello è abbastanza ovvio questo è il gruppo che ho appena linkato gruppo bellissimo si può vedere da dei due soggetti che sembrano piegati di ferramenta scrotto un death che ho messo su prima poi io mi faccio venire in mente dell'idea anche sfogliando vecchi fans ogni tanto salta fuori qua c'è root con il tipo il tipo che era già vecchio e grasso io non so quanti cazzi anni avrà 79 sempre sempre uguale sempre rugoso grasso e barbuto siamo interviste con down shall suffer poster dei grave questi sono questi sono i massacri costaricani non erano granché si può anche evitare di ascoltarli ecco questi anche questi post it me li ho fatti perché ci sono dei gruppi qua ad esempio questi di misemburi ed non sono riuscito a trovare granché anche questi panamensi adesso poi di panama di recente mi sa che uno del gruppo che ho comprato è quella roba ultra grind black metal marcissimo che sono gli abattoir o è abattoir come uno vuole visto qua anche sempre costaricani surga mai sentito un cazzo o che è venuto un qualcosa che ha spazzato via ogni ogni resto di ogni residuo ogni registrazione o non ha mai avuto la scena panamense è tenuta è andato abbastanza a scomparire negli anni dai amici fatta smitterment finlandesi questo è interessante è un flyer grind del periodo c'è una bella recensione a regurgite che aveva appena fatto uscire si non è ancora uscito neanche il fulmio in questo periodo con cari lord fantastici amo ovviamente non sono gli amon amon della repubblica cieca intervista al noon school maimed grandemo poi devo uscire per la recente da un po' di tempo non si sa che fine abbia fatto ma immagino che uscirà in pompa magna con tu ma si si questi qua non erano proprio niente di che non capisco magari sai alla fine uno intervistava anche i gruppi che rispondevano più che altro qui poi c'è tutta una serie di roba di roba tutta sommata abbastanza tradizionale massacr fondata del combustion xisma taja magnetica abzo col vecchio logo un bellissimo report sulla scena noise peruviana vecchissimo flyer osmos che vale appena vedere che rispondono ma da imbride poi essendo spillate anche resistito abbastanza bene alcune robe vecchie delle di questi spillati si sbriciolavano quelle con la colla diciamo quelle perfect bump ovviamente non resistono il test del tempo quelle spillate tutto sommato se resiste la puntatura questi li ho sentiti sono c'avevo qualcosa lo fanno veramente cagare anche questi live 8 pollici flexi the benediction posterino osmos cry puntato gruppo orrendo prog metal ripilante flyer demos che al fine sono un gruppo più 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 anziano di quanto uno vuole ammettere e ovviamente il flyer di mammarella sul live the mayhem con cui ha messo in piedi la sua prolificatività assentrites immortal bla 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 e un bio dei monster city al fine c'è anche il login lucroblast in caso che abbiamo ristampato direttamente questo che poi fa anche da chiusura della fanzine allora che dire per concludere ha messo su questo gruppo messicano i putrefassion ma secondo me ho messo troppa carne al fuoco oggi a prossimo modo faccio una cosa più semplice magari faccio tre pezzi magari un cd e un demo e una cassetta magari un cd e un demo e una cassetta nuovi e un cd e un demo e una cassetta vecchi potrebbe essere un'idea qua vedo anche nuovi like sulla pagina che è una cosa che è una cosa positiva alza un po' il volume magari si sente qualcosa o no che sia che sia programma a secco ben concludo allora discorso veloce la prossima live la faccio venerdì prossimo vedo un po' adesso anche dai feedback se fare una maratona come quella di questa sera che però non è stata particolarmente efficace come quella di ieri o se fare appunto tre pezzi vecchi tre pezzi nuovi e poi tenerla semplice magari con un po' di news all'inizio più magari posso fare degli speciali diciamo ogni tanto con quello di stasera dove si parla di qualcosa in particolare non totalmente buttati a cazzo come ho fatto stavolta concludo con mi hanno chiesto una ricetta mi sembra una missione la prossima volta che lessate le patate per fare al forno metteteci prima di tutto ovviamente non togliere la buccia mai perché è la cosa più criminale che si possa fare pulirle bene tagliarle a fette con la loro buccia e mettere un cucchino di bicarbonato nell'acqua nell'acqua salata poi dopo si scola e si mettono le patate in forno e vedrete che vengono molto più croccanti che senza perché l'acqua se è un po' basica diciamo crea un po' di pati la patata poi tutto sommato possiamo dire si apprezza in qualsiasi forno si tape cd venile che ne sa che è la cosa più pulita che si possa fare ho parlato abbastanza adesso vado a editare un po' il video quello che si è interrotto prima perché secondo me qualcosina andrà sfrangiato e poi niente ci si riaggiorna venerdì prossimo se avete una qualche idea lasciatemi i commenti qua sotto e vedrò di caricare i video anche su youtube così se riesco a recuperare qualcuno che qualche disperato che ha voglia di sentire le mie stronzate anche di là lo prendiamo anche di là